buongiorno carissimi ben trovati in questo sabato della seconda settimana del nostro tempo ordinario oggi anche memoria di santa agnese vergine e martire termine che vorrei condividere con voi oggi per quanto riguarda il nostro cammino di preghiera per l'unità dei cristiani è la t la t di trasparenza perché così anche le brano del vangelo che è veramente breve ci stupisce forse per la sua brevità sono due versetti 20 e 21 del primo capitolo di marco gesù sta predicando e i suoi sentito questo uscirono per andare a prenderlo perché tanta folla stava intorno a gesù che non poteva nemmeno mangiare e dicevano però i parenti e fuori di sé gesù ovviamente ha una trasparenza che fa vedere ciò che lui realmente è non è che deve fingere non è che deve mostrare chissà che cosa quale maschera perché gesù in gesù non c'è falsità e quindi la trasparenza è un atteggiamento e una virtù che ognuno di noi dovrebbe forse avere per pensare a un mondo diverso delle relazioni diverse bisogna molto probabilmente essere più trasparenti ovvio non significa questo denigrare il prossimo né significa farlo sentire inadeguato a disagio o disintegrarlo con la propria voce con le proprie parole con i propri pensieri assolutamente no considerate gli altri superiori a voi stessi ci ha ricordato san paolo ecco però la verità va detta con quella carità necessaria per il bene dell'altro quindi quando io mi permetto di dire qualcosa a una persona è per il suo bene non perché voglio fare da maestro da maestra nei confronti del mio prossimo per aiutarlo a vivere come lui realmente è o lei realmente è con i suoi talenti le sue attitudini e allora ecco che il culto il culto dell'antico popolo di israele siamo capitolo 9 della lettera agli ebrei fu costruita una tenda la prima nella quale vi erano il candelabro la tavola i panni dell'offerta e se veniva chiamate il santo ghiero il velo poi c'era la tenda chiamata santo dei santi c'entrava il sommo sacerdote una volta l'anno quindi gesù è entrato nel santuario del cielo una volta per sempre in virtù del proprio sangue ha offerto se stesso è vero che se siamo trasparenti ci mettiamo ecco nell'offerta di noi stessi all'accettazione o al rifiuto e inevitabilmente ma si fa la volontà di dio ma è quello necessario che noi la perseguiamo così come anche la vita di sant'agnese siamo nelle roma del 304 durante la persecuzione di ocleziano quando questa dodicenne fu martirizzata a piazza navona perché perché cristiana perché non voleva essere sposa del figlio del console romano e pertanto fu denunciata per la sua fede fu messa in piazza navone e quindi cercate di uccidere prima un uomo si avvicinò così dice la tradizione verso di lei perché era tanto bella voleva prenderla con sé che cade morto e rivisse per intercessione della santa agnese poi addirittura alla fin fine fu messa nel fuoco ma per le sue preghiere fuoco si spense alla fine fu martirizzata con un piolo nel collo quindi fu uccisa così cosa significa agnese la sua parola è purezza castità bene allora chiediamo al signore che ci aiuti a vivere la trasparenza il coraggio anche di professare la nostra fede fino in fondo senza nessun problema senza nessuna reticenza sapendo che il signore è con noi facciamolo le nostre le parole del versetto al vangelo apre il signore il nostro cuore accoglieremo le parole del figlio tuo buona e santa giornata a ciascuno di voi tanti auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il mio nome agnese ci vediamo domani per il nostro appuntamento grazie grazie grazie